Con le immagini andiamo allo stadio di Marcellano dove si impone la Ducato, eccola qua, proprio la Ducato con le immagini riprese proprio prima dell'inizio della partita, Ducato che è l'antifoligno, vedete mister Ricci che sta spiegando ai suoi la tattica che Fausto Ricci che poi condurrà alla vittoria, l'ha spiegata bene, soprattutto i suoi l'hanno recepita bene. E con le immagini adesso siamo al riscaldamento di fronte al Ducato, la nuova Gualdo Bastardo di mister Proietti. Andiamo con le immagini al secondo minuto, la formazione in maglia rossa, quella ospite del Ducato, si rende subito pericolosa. Ricordo che in questo girone al momento non si disputerebbero i playoff, quindi Foligno e Ducato andrebbero direttamente nel campionato superiore. Secondo minuto vedete la spaccata di Fedeli e si salva in qualche modo la formazione di casa. Poi proteste da parte degli ospiti con Pazzogna che finisce a terra, l'arbitro però dice che si può continuare. Allora è la Ducato che passa in vantaggio al settimo minuto, grandissimo gol del Ducato con Cola, il solito Cola e dunque 1-0 per gli ospiti. Calcio d'angolo per i padroni di casa, clamorosa opportunità per Ratini di pareggiare, la palla però va ad incocciare sul palo. Ancora Ratini, palla buona sul destro stavolta, la sfera è alta. Eravamo al ventitresimo. Trentaquattresimo, pericolosa ancora la Ducato con Moretti che supera un po' tutti. Il destro vola il portiere Martin Angeli e mette in calcio d'angolo. Alla trentacinquesimo, proprio Proietti, viene espulso dal direttore di gara Diego Serica di Terni per proteste. Calcio di punizione per la Ducato, trentasettesimo, palla che spiove in aria di giustezza, arriva all'appuntamento col pallone Fedeli e segna il gol del 2-0. Dunque a questo punto partita già in discesa per la Ducato. Si va così negli spogliatoi. Andiamo con la ripresa, sesto minuto, sono i neri di casa, rendersi pericolosi con un'azione che parte da pugnali. Il bel pertugio per maggiori, il cross al centro, ci arriva un po' scordinato all'appuntamento col tiro Gramaccioni e la palla va sul fondo. Al nono minuto la nuova Gualdo Bastardo rimane in inferiorità numerica. Espulsione, eccolo qua, per Ratini, nettamente in ritardo, arriva Serica e gli mostra il secondo cartellino giallo. E dunque, vedete, ce l'ha tutti due in mano i cartellini. Prima il giallo, poi il rosso e inferiorità numerica anche in termini di giocatori dopo l'espulsione del mister. Al 23esimo la superiorità non solo numerica si concretizza perché se ne va molto bene in contropiede la Ducato con Moretti che infila il gol del 3-0. A questo punto gestione per la Ducato che però si rende pericolosa ancora con questa incursione potente in area di rigore da parte di Tomassoni. È bravo Martin Angeli a tuffarsi in tuffo. Al 39esimo ancora opportunità per gli ospiti, bravissimo ancora Martin Angeli a salvare quantomeno l'orgoglio dei suoi. Al 41esimo opportunità per la squadra di casa, branca il pallone in presa all'altro portiere Andrea Cimarelli. E poi il tiro da parte della Ducato al 43esimo, è l'ultima occasione 0-3 dunque, vince la Ducato. Secondo me abbiamo fatto una grandissima vittoria contro una squadra che veniva da 4-5 risultati utili consecutive. Abbiamo giocato con tantissima determinazione, tantissima cattiveria agonistica e abbiamo messo anche moltissima qualità. Mi chiedevano del nostro centravanti, dei nostri attaccanti perché credo che abbiano fatto una partita con la Tomassoni, ma tutti quelli che hanno giocato, quelli che sono subentrati, abbiamo fatto una grandissima vittoria e vale 6 punti perché era uno scontro diretto alla fine. Parlare dopo un 3-0 non è semplice, quello che posso dire, voglio subito precisare secondo me che il risultato è un po' troppo largo e sicuramente bugiardo. Noi oggi tra l'altro avevamo anche assenze molto importanti, Senai e Megarelli a questo gruppo se lo togli non è semplice sostituirlo perché non siamo né la Ducato né il Foligno purtroppo come il Rosa. Io comunque faccio i complimenti ai miei ragazzi perché comunque si sono impegnati, hanno dato il massimo e il massimo quello che potevamo fare oggi perché secondo me non stiamo nemmeno molto bene in questo momento. Quello che non mi è andato giù sinceramente è l'arbitraggio, il signor Serica non mi è piaciuto molto, soprattutto su alcuni episodi, dopo 7 minuti già aveva fatto 3 ammoniti dei nostri su una simulazione assurda secondo me e ci ha condizionato subito la partita. Poi avete visto tutto il primo tempo noi abbiamo preso una traversa, un palo, abbiamo creato molte occasioni quindi noi ci meritavamo sicuramente il pareggio nel primo tempo.